Il problema della felicità Il problema della felicità La felicità in genere viene ricondotta a livello di esperienze individuali però come si ricongiunge al tema dell'ordine, del cosmo? Io penso che questo sia un nuovo illuminismo e l'esigenza che oggi abbiamo cito tre cose il problema della guerra che sta diventando di nuovo globale e con nucleare il problema del riscaldamento globale e il problema delle pandemie che potrebbe tornare e ha per definizione una dimensione globale chiamano in causa la specie umana come specie nonostante tutte le differenze geografiche e anche in forza di quelle differenze. Non è un illuminismo che vuole definire un umano una volta per tutte, chi se ne frega? Cioè il problema della definizione è del tutto secondario Infatti io sto dicendo umano e non un uomo per un accorgimento che non ha assolutamente nulla di innovativo perché ormai è una cosa molto diffusa e che è l'idea cioè che quando parliamo di uomini non dobbiamo parlare di uomini come se fossero una specie creata così dobbiamo parlare di uomini nell'ambito della loro storicità naturale cioè del fatto che sono diciamo evoluti così come specie Tuttavia ho notato in moltissimi casi di nuovo in molti esempi della filosofia della sinistra più radicali e non parlo qua di marxismi parlo di sinistre che poi diventano radicalmente antispeciste per esempio il mio problema con quel tipo di tesi lì è che alla fine però io sono umano cioè io sono quella cosa lì che non vuol dire che devo essere antropocentrico cioè non vuol dire che devo pensare tutto il mondo gira intorno agli umani però io sono umano la mia vita è una sola che mi è data a vivere se poi mi rincarmassimo un cane le riparghiamo invece noi abbiamo un antiumanismo ormai viscerale in cui sembra che noi siamo come non so i cani le pietre e non cambia niente Gaia è lei che pensa io non so se pensa o no Gaia so però che coloro che stanno rischiando la pelle per via del riscaldamento globale sono gli umani e o alcune altre specie ma Gaia come tale questo è solo per completare il mio pensiero per evitare di essere perinteso contro umanismi stupidi fondati su ideologie metafisiche l'umano non poniamoci il problema della definizione assumiamo fino in fondo e con umiltà la nostra condizione di specie e dentro quella condizione di specie agiamo per operare in modo tale che la terra possa continuare ad essere la nostra casa questo è il tema dell'appaisamento l'appaisamento è lo sforzo, la direzione fondamentale dell'esperienza del soggetto trasformare la terra nella propria casa mi pare una sfida globale questo ci restituisce all'orizzonte cosmopolita dell'illuminismo però perché se continuiamo a ragionare per territori non siamo in grado di affrontare due problemi allora un illuminismo fondato sulla razionalità e basta è un eurocentrismo mascherato l'abbiamo già detto da molto tempo però l'abbiamo detto negli anni 90 negli anni 80 l'ha detto l'ermeneutica la decostruzione l'ha detto Marx tutto quello che c'è a sinistra l'ha detto ma l'ha detto anche la destra perché ce l'ha con l'illuminismo perché è troppo libera al borghese invece bisogna tornare a sangue terra l'hanno detto tutti lo sappiamo ora resta il fatto che se l'umanità non si riorganizza io su questo ammetto il mio kantismo io sono molto kantiano però di un kantismo nuovo Kant ha questo orizzonte cosmopolita che però non è mai basato sulla pretesa di una definizione non è che Kant ti dice l'umano è questo tutti gli umani sono così e quindi devono far cosa? Kant dice che l'unica cosa che può definire tutti gli umani è la loro libertà dell'agire e cioè praticamente non è possibile definirlo perché la libertà dell'agire è una precondizione trascendentale che non può essere valutata fino in fondo e ti dice però che il destino dell'umanità è comune ecco perché la pace perpetua ecco perché la storia secondo me questi argomenti dovrebbero essere recuperati oggi oggi abbiamo nuove nuove ragioni per recuperarli e la felicità? guarda io questo non lo so la felicità dal mio punto di vista ritengo che l'apaesamento sia la posta in gioco della felicità cioè il contrario esatto no? però oggi la questione della vita sulla terra la vita umana sulla terra è talmente grave talmente pericolosa che il rischio è che altro che felicità è che la vita umana sulla terra non ce la faccia più quindi il problema dell'apaesamento è che nel realizzare le condizioni del nostro appaesamento attuale noi stiamo minando le possibilità della vita sulla terra nel futuro e quindi probabilmente anche della felicità diciamo tendenzialmente mi verrebbe da dire questo che la felicità di un essere umano medio della nostra generazione nella nostra storia potrebbe stare in un buon equilibrio di appaesamento e spaesamento l'apaesamento assoluto è un incubo vi do un esempio Borges 1946 il racconto della mappa a scala 1-1 permettiamo che se è vera la questione dell'apaesamento la mappa è uno strumento dell'orientamento funzionale della felicità intesa come non mi perdo, mi oriento, questa è casa mia ma ammettiamo anche che ogni mappa è vuoi per la sua radice ermeneutica vuoi per la sua condizionamenti estetici vuoi perché è in scala limitata la limitazione è la condizione dello spaesamento non mi posso sentirvi in fondo a casa perché non ho veramente una padronanza assoluta dello spazio ogni mappa è limitata allora lui dice siccome tutti vogliamo le mappe immaginiamo una situazione nella quale invece riusciamo ad arrivare ad una mappa a scala 1-1 cioè conquistare completamente lo spazio in cui abitiamo sentirci quindi fino in fondo a casa e lui dice che questa mappa diventa talmente insopportabile talmente inutilizzabile talmente paralizzante perché blocca il movimento il quale movimento il quale movimento è basato sul fatto che io non mi sento completamente a casa cioè è basato sul fatto che ho bisogno di un range spaziale più ampio e ho bisogno di affrontare l'imprevisto per sentirmi vivo ho bisogno di entrare in contatto con l'altrove per conoscere i significati della mia casa d'origine allora una mappa 1-1 a un certo punto i funzionari dell'impero la prendono e la buttano via perché dicono questo è un incubo l'utopia dell'apaesamento totale sono le distopie realizzate nelle enclave di certi stati sudamericani certe città sudamericane ma anche nei libri di non so 1984 dice tutto è talmente perfettamente strategico che la tattica è soffocata ma se non c'è la tattica se non c'è quello spaesamento che fa muovere il mondo e fa muovere la vita c'è solo la morte quindi la felicità secondo me è la tendenza verso l'apaesamento nel saper però anche cogliere il bello dello spaesamento ecco forse il bilancio di queste due cose quale domanda potremmo farci dopo questa conversazione per continuare la ricerca secondo me non è che c'è una domanda in questo caso su questo tema siccome è così vasto perché riguarda il nostro modo di stare nello spazio cioè per esempio se dovessi fare il pubblico amministratore io penserei soprattutto alle questioni dell'area rismessa per esempio oppure alla fruizione degli spazi pubblici però se fossi uno che deve organizzare la prossima vacanza mi chiederei ma come fare a fare in modo che sia un'opportunità per imparare qualcosa e quindi spaesarmi anche un po' se fossi uno che studia filosofia forse la domanda che sarebbe qual è il risvolto spaziale di quello che sto studiando perché tante volte è stato rascurato in passato però se io fossi uno che fa geografia probabilmente direi beh la geografia ha una fortissima rilevanza filosofica una fortissima rilevanza concettuale devo interrogarvi sulla didattica sul modo in cui faccio la... cioè dipende da qual è la prospettiva da cui la prendete però io credo che questo tema funzioni bene dal turista fino ad arrivare allo scienziato che si occupa di geografia o filosofia fino al politico questo tema è un fortissimo rilevanza politica no? naturalmente in realtà devo dire che Paolo ha affrontato una questione di prospettiva di metodo e di orientamento io posso non condividere ma comunque citato che anche illuminismo temperato è una risposta ma è anche una questione che noi dovremmo porci sempre ho avuto il coraggio di dirlo e questo mi fa molto morale sinceramente tanto su queste cose non c'è dimostrazione scientifica e quindi l'unica cosa che ci rimane è quella che Aristotele chiamava il simulismo dialettico cioè ragionare bene bene premesse conseguenze ragionare bene a partire però da premesse che sono di convincimento questo era il simulismo dialettico e Aristotele diceva che il simulismo dialettico era il tipo di razionalità che formava la politica ed è esattamente così cioè non si può pensare di buttarla solo a livello teorico bisogna a un certo punto avere la forza di assumere un punto di vista